Il Buccino Volcei ferma l'Agropoli sul 2-2 alla seconda giornata di ritorno. All'Agropoli non riesce la rimonta dopo il doppio vantaggio degli ospiti maturato nei primi 20 minuti di gioco. Per la squadra di Mister Cianfrone le reti invece portano la firma di Don Antuoni su Autorete e Margiotta. Il vantaggio degli ospiti arriva nei primi 5 minuti di gioco. Senatore mette un traversone dalla destra per Pelosi che di testa anticipa tutti e mette alle spalle di Pragliola. L'inizio shock dei Delfini continua al 17esimo con il raddoppio di Troiano. Da valutare però la posizione di partenza di Pelosi che contribuisce al gol con l'assist per il numero 10. Dopo il doppio vantaggio il Buccino ci prova ancora con Senatore Mamaiese salva provvidenzialmente. Dopo lo spavento l'Agropoli prende il pallino del gioco e trova alla mezz'ora l'uno a due con un'autorete di Don Antuoni propiziato dal solito Margiotta. Pochi minuti più tardi arriva anche il doppio giallo di Sebois che porta i Delfini. In superiorità numerica prima del duplice fischio arriva un'altra occasione per Margiotta che in girata non trova lo spunto giusto. La ripresa inizia senza cambi. Al dodicesimo i Delfini trovano subito il pareggio con il solito Margiotta che capitalizza una palla morbida di Bacio Terracino. Dopo il pareggio i Delfini mettono in scena il più classico del forcing ma purtroppo nonostante la marea di occasioni non arriva il gol vittoria. A due minuti dalla fine è clamorosa la palla gol per i Delfini con Guzzo che crossa dalla destra sulla palla attesa Letto salva praticamente sulla linea mettendo il pallone in calcio d'angolo. Nel recupero altra occasione per Margiotta di gran lunga il migliore in campo ma sul destro del numero 9 Pergamena compie l'ennesimo miracolo.